Un altro lungo fine settimana sportivo è giunto al termine. Diversi sono stati match che hanno interessato le squadre del nostro territorio, a partire dal calcio a 5 con Little Service che con un sonoro 4-0 vince in casa del Petrarca Padova. La squadra si conferma quindi capolista con 48 punti e il prossimo match di campionato in programma è previsto per venerdì 7 febbraio contro la Cybert e la Niene. Little Service è stata protagonista nel weekend anche di un altro importante appuntamento. Domenica infatti al Palalino Pizza si è svolta un amichevole contro i clown dottori dell'associazione Timmagini Ollus. Un pomeriggio in cui oltre allo sport a trionfare è stata anche la beneficenza con la donazione dell'intero ricavato del pomeriggio di festa all'associazione. Ci spostiamo al rugby con la Mobility Pro Pesaro Rugby che apre con una vittoria il girone di ritorno. 31-10 il risultato finale contro Romagna che permette ai pesaresi di fare un altro passo verso la salvezza. Dopo la prima vittoria stagionale a Bologna contro la Fortitudo la VL torna a perdere. I biancorossi escono pesantemente sconfitti dalla sfida in casa contro la Dinamo Sassari. Punteggio finale del match 87-107. Chiudiamo con il calcio e con la Vis Pesaro impegnata sul campo della San Benedettese. La squadra pesarese vince 1-0 grazie alla rete di De Feo alla sua prima gara da titolare. Noi ci crediamo sempre, noi andiamo a affrontare le partite sempre per portare a casa i tre punti. Oggi la San Benedettese come sapevo già nel palleggio è stata superiore però le armi che avevamo previsto le abbiamo sfruttate. Che sia venuta un'occasione o dieci a me interessa poco. L'importante è avere studiato così la partita. I ragazzi sono stati molto ma molto bravi a interpretarla e poi c'è andata bene perché l'unica occasione pulita l'abbiamo sfruttata. Ti ho detto anche ieri in conferenza che è una squadra che mi piace di più del campionato, una delle squadre, perché quando attacca gli spazi è devastante. Noi abbiamo tentato di evitare questo, di essere ordinati, di tenere duro che l'occasione arrivava. Nel primo tempo abbiamo avuto tre situazioni da giro palla fatto bene e le abbiamo messi un po' in difficoltà. Troppo poco, è vero, però noi ci siamo adattati alle nostre caratteristiche e abbiamo tentato di chiudere questa profondità alla San Benedettese.